Musica Palazzo di giustizia di Nocera Inferiore, siamo negli uffici del procuratore capo della Repubblica, il dottor Gianfranco Izzo che ci ospita per una chiacchierata sulla situazione non solo della giustizia nel territorio di riferimento ma anche dello stesso palazzo che ci ospita. Dottore Izzo noi la ringraziamo per questa chiacchierata che ci ha concesso e vorremmo partire da un tema con lei di strettissima attualità che è quello legato un po' alla situazione della giustizia nel comprensorio. Innanzitutto è recentissima la polemica sulla sicurezza dei tribunali. Qui com'è la situazione? Vi sentite abbastanza sicuri o siamo sulla stessa lunghezza d'onda e sul trend nazionale? Il problema della sicurezza, come è ben facile comprendere, è relativo, si connette a vari aspetti. L'aspetto anzitutto del controllo puntuale, preciso ed effettivo sulle persone che entrano in un palazzo di giustizia e l'aspetto della possibilità pratica, della esigibilità direi, di un controllo puntuale, effettivo e concreto. Per quanto riguarda il tribunale di Nocera Inferiore, che tra l'altro era anche menzionato in un articolo sul Corriere della Sera, La situazione è questa. L'accesso al palazzo principale, dove hanno sede gli uffici della procura, gli uffici del tribunale, le aule in cui si celebrano i dibattimenti dei processi penali, è controllato dal metal detector che è in uso ormai da molti anni presso tutti i palazzi di giustizia, che funziona a corrente alternata, nel senso che spesso funziona, segnala la presenza di un oggetto metallico anche quando la persona non è in possesso di questo oggetto metallico. Ciò non toglie che si possa a ben ragione dire che il meccanismo funziona e che il controllo è effettuato da personale della Polizia di Stato nel pomeriggio dai carabinieri. Anzi vorrei sottolineare a questo proposito che siccome si è detto in questi giorni sulla stampa e sulle varie reti televisive che la maggioranza, la grande maggioranza degli uffici giudiziari italiani è presidiata da personale appartenente a ditte di vigilanza privata, per nocera inferiore non è così perché mi risulta che ben prima del mio arrivo da sempre probabilmente il controllo è effettuato da rappresentanti delle forze di polizia statali, quindi ripeto carabinieri e polizia di Stato. Possiamo essere quindi abbastanza fiduciosi che non riescano ad accedere a questi uffici individui malintenzionati. che potrebbero tentare ma non riuscire per la situazione abbastanza soddisfacente a cui mi riferivo. Il contrario purtroppo deve dirsi per il palazzo che ospita sempre nell'area della città della giudiziaria è lì che accadde un episodio a cui si riferiva il Corriere della Sera di ieri, nell'anno passato, in una lite abbastanza furibonda e manesca nel corso di una causa civile di finita locazione tra il proprietario e l'inquilino che fu sedata senza gravi conseguenze all'intervento delle persone presenti e dello stesso magistrato che teneva udienza. È lì però che manca un controllo sia elettronico sia personale ed è lì che dovremo indirizzare le nostre pressanti richieste sia io che il Presidente del Tribunale all'autorità di Polizia perché a questa situazione sia posto rimedio. Certo, certo. Anche perché vista la situazione forse talvolta i rischi sono frequenti anche nelle udienze civili. E più nelle udienze civili perché nelle udienze penali poi ci sono sempre dei carabinieri che stazionano o all'esterno o all'interno delle aure. Certo, quindi anche questo è un monito a organizzarsi diversamente. E Palazzo di Giustizia è denunciato inferiore, siete sul fronte sicurezza e abbastanza tranquillo. Non possiamo dire dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro per quanto riguarda gli organici. Una richiesta, una lacune che voi avete sempre denunciato però. Per gli organici c'è una situazione che abbiamo segnalato ormai da quasi due anni di estremo disagio e di estrema incredibilità. Io sottolineo, l'ho detto anche a chiare lettere qualche mese fa al Consiglio Superiore, alla settima commissione del Consiglio Superiore della Magistratore, che è una situazione veramente incredibile. nel senso che organici già indiscutibilmente insufficienti sin dal 1993, data di istituzione del Tribunale, non sono stati rafforzati per nulla. Per nulla intendo che la Procura non ha ricevuto l'aumento neanche di un magistrato ed il Tribunale ha ricevuto l'aumento di un solo magistrato assolutamente insufficiente, assolutamente non definibile aumento, anche a seguito dell'incremento territoriale. Noi dal settembre 2013 amministriamo giustizia in un territorio che si è arricchito di altri sette comuni per altri 130.000 cittadini, per un totale di 400.000 cittadini. Magistrati in Procura sono otto, sette sostituti ed è sottoscritto e sono assolutamente insufficienti, ma sottolineo la situazione veramente caratterizzata da un'insipienza, non posso non dirlo, del nostro Ministero, insipienza soltanto in questo caso, sia chiaro, ma insipienza che per la tenacia e per la protrazione nel tempo diventa assolutamente una manifestazione, diventa certamente una manifestazione di disinteresse totale per una situazione che non può non essere riconosciuta come disagevole. Ed è stata riconosciuta come disagevole perché nessuno si è mai permesso di dire che le nostre richieste non sono fondate. E il disappunto si basa soprattutto su questa, scaturisce soprattutto da questa considerazione che pur sentendoci dire ormai da due anni che abbiamo ragione, la ragione non ci viene riconosciuta con atti pratici come se si trattasse di una rivendicazione nostra personale quando invece riguarda ovviamente l'amministrazione della giustizia e quindi l'interesse di 400.000 cittadini, ripeto. Ecco, appunto per far comprendere meglio di che cosa stiamo parlando e dei numeri, abbiamo una proporzione, anzi una sproporzione rispetto ad altre procure che è notevole. Io ne posso senz'altro dire, senza tema di smentito, che i sostituti che lavorano in questo ufficio devono occuparsi in media di 1.500 procedimenti. C'è chi ne ha 1.200, chi ne ha 2.000 e qualcuno anche 2.500, la media è 1.500-1.600 procedimenti laddove procure confinanti hanno il privilegio, diciamo così sarcasticamente, di occuparsi come dovrebbe essere per tutte le procure, per tutti gli uffici giudiziali, di 500 al massimo 600 procedimenti, con l'ovvia conseguenza che possono dedicarsi in serenità e con più razionale impiego del tempo e delle energie alla trattazione di questi procedimenti. Non è un discorso che richiede una conoscenza approfondita dei meccanismi giudiziali, questo per trarne la conseguenza che siamo molto e saremo chissà purtroppo per quanto tempo ancora in credito verso i nostri organi ministeriali, non verso nessun'altra istituzione. Ovviamente l'organizzazione, lo smistamento dei procedimenti avviene come avviene in tutte le procure d'Italia. In tutte le procure sempre compatibilmente è in riferimento a quelle che sono le risorse umane che sono, ripeto, insufficite anche per quanto riguarda il personale amministrativo e non soltanto per i magistrati, avviene con criteri nel nostro caso automatici di assegnazione dei processi di modo che non è mai prevedibile prima dell'iscrizione del procedimento stesso a quale magistrato questo sarà assegnato. Nonostante questa situazione non evolve né in un modo né in un altro, anzi forse un'evoluzione c'è stata quando vi è stato assegnato un numero cospico di popolazione in più, di utenza in più, di recente anche la regolare ispezione, quella che avviene normalmente del ministero, non ha messo in luce poi né ha potuto smuovere le acque rispetto a questo. Certamente non aveva nessun potere, nessun mandato di smuovere le acque, certamente nella relazione gli ispettori segnaleranno questa situazione ma ripeto questa situazione è stata già segnalata ripetutamente in convegni e in incontri personali anche del sottoscritto e del presidente del tribunale con il capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria che è un po' l'organo di riferimento per questi problemi di organico e di organizzazione. Si chiama appunto il dipartimento, uno dei più importanti del ministero della giustizia, si chiama appunto il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Io a questo vorrei legare strettamente un tema che vi vede e protagonisti perché ormai si parla spesso di voi magistrati in Italia, è quello legato alle ferie dei magistrati. C'è qualcuno che vorrebbe un po' sottrare, dice che vi riposate un po' troppo. Questa delle ferie è una polemica un po' vorrei personalmente definirla ridicola perché ho sempre, premetto che a mio giudizio ha fatto male l'associazione magistrate ad opporsi con fermezza e addirittura con vehemenza in qualche caso perché era chiaro l'intendimento del governo e nel caso specifico del Presidente del Consiglio quello di dare un po' a tutta l'organizzazione statale italiana il segnale che bisognasse rimborcarsi le maniche nei settori in cui ciò non avveniva. Quindi è un po' come dire, un obiettivo non bene individuato perché tutto si può rimproverare alla magistratura italiana fuorché di non rimborcarsi e di non essersi rimboccate le maniche in passato ormai da decenni e da decenni. Io ritengo che sia stato in fondo un esercizio di retorica decisionista perché poi in pratica i non addetti ai lavori non sanno, eppure si è scritto ma comunque si continuano a non essere ben informati non sanno che in definitiva sulla base del decreto legge che ha ridotto le ferie da 45 a 30 giorni non si sa esattamente se noi dobbiamo godere di 30 o di 45 giorni perché, ciò dicevo all'inizio, è una questione quasi ridicola nel senso, ripeto, cioè preciso la legge che è diventata tale a seguito della conversione in legge del decreto stabilisce che i magistrati devono godere di 30 e non di 45 giorni si riferisce soltanto ai magistrati fuori ruolo cioè quelli che sono distaccati ai ministeri oppresso autorità nazionali che non esercitano la giurisdizione di modo che, non essendo stata esplicitamente abolita, abrogata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.